In considerazione degli ingenti danni causati dall'alluvione nei territori dell'Emilia Romagna e Marche, Riviera Banca e le altre banche di credito cooperativo, insieme alla capogruppo Banca di credito cooperativo ICREA, hanno stanziato un primo plafond di 300 milioni di euro a sostegno dei territori profondamente colpiti dal maltempo. Il plafond è destinato sia alle famiglie che alle imprese che in questi giorni stanno subendo forti danni a causa di una calamità naturale senza precedenti. Riviera Banca si sta attivando per facilitare l'accesso a tutte le misure nazionali e regionali messe in campo a favore delle popolazioni colpite a cui si aggiungeranno interventi personalizzati una volta quantificati i danni subiti. Riviera Banca esprime vicinanza alle famiglie e alle aziende colpite dall'alluvione, assumendo la responsabilità del ruolo di banca di riferimento delle comunità locali e del territorio. A livello nazionale, FederCasse sta attivando, in collaborazione con le federazioni locali interessate, una raccolta di fondi da destinare iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione. Riviera Banca, fedele al proprio ruolo di banca, di comunità, e in linea con i valori di solidarietà e mutualità che da sempre ispirano le nostre azioni, vuole essere vicino al tessuto socio-economico del nostro territorio, soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale. Insieme a istituzioni, imprese e famiglie supereremo anche questa emergenza.